Sono davvero lieto di questa nomina che il Consiglio Superiore della Magistratura ha fatto per il Procuratore di Leggio Calabria, Federico Caffiero de Rao. Sono contento per una serie di motivi. Innanzitutto perché è un napoletano, quindi ancora una volta la magistratura napoletana brilla e è ai vertici. Poi perché ho conosciuto da magistrato Federico Caffiero de Rao e so con quanto coraggio, competenza, professionalità e abnegazione e onestà ha contrastato in particolare il clan dei Casalesi, un clan mafioso, la principale organizzazione camorristica dei nostri territori. So da ex magistrato che ha operato nove anni in Calabria il lavoro egregio che Federico Caffiero de Rao ha fatto in questi anni da ultimo alla Procura di Reggio Calabria e poi perché è un uomo attento, sensibile e onesto e quindi credo che sia importante che ai vertici della magistratura nel contrasto alle mafie ci sia un magistrato così impegnato, così coraggioso e che spende il tempo della sua vita nel contrasto al crimine e al crimine più pericoloso che quello delle organizzazioni mafiosi e terroristiche ovviamente.